Siamo a Via Pocopani 16 a Roma, davanti alle sedi dell'Amposciata Eritrea. Il maggio 18 settembre, il giorno in cui sono stati incarcerati migliaia di persone in Eritrea e la nuova si trovano i carceri segreti, compresi solamente, tra tutti di loro, tutti sono morti, non hanno mai potuto incontrare un parente, un avvocato o un medico. Siamo qui per ricordarli. ? Che! Passiamo alla nuova, perché av�arli al PCS? Questa è la nuova, l'argo e la nuova, l'argo, la nuova, l'argo. L'argo la nuova, l'argo, la nuova, l'argo la nuova, la nuova, l'argo, la nuova, l'argo, la nuova, l'argo, la nuova, l'argo e le. L'argo dell'argo, l'argo. L'argo, l'argo, le rieformer. Ci sono stati di una rivoluzione del vostro rivoluzzo. Ci sono stati di una rivoluzione, ma non mi ha detto. Si è stato fatto, non mi ha detto. Non siamo stati con i bambini, ma non mi ha detto, ma non mi ha detto che la mia rivoluzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.